Ciao dal mio orecchi, video pazzo, musica fantastica di sottofondo, un po' di soul music, la musica per l'anima. Cosa ti voglio dire? Ascoltando questa musica ho pensato, e mi ci metto pure io, in questo periodo pazzo, incredibile, che non si capisce niente, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Oggi magari non è andata bene, non ti preoccupare. Vivi al meglio il tuo presente e sappi che se riuscirai a fare questo, se riusciremo tutti quanti a fare questo, vivere al meglio il nostro presente, il domani potrà essere solo migliore e comunque diverso. E come detto in altri miei video, ascolta la musica. Nella musica c'è il divino, anche nella soul music. Buona riflessione.